buongiorno a tutti quanti ragazzi benvenuti al canale gameplays un saluto dal vostro amico salvo ieri dopo che ho pubblicato il video che dicevo che non volevo più fare le direct live su youtube per i motivi che ho già spiegato mi sono arrivate diversi messaggi che onestamente non mi aspettavo di ricevere da quelle poche persone che hanno sinceramente piacere a seguirmi e in più essendo che avevo promesso e io sono una persona che mantiene le promesse io la volevo fare su twitch la volevo fare e poi trasmitterla su youtube una guida completa di sekiro come sconfiggere in maniera facile il boss perché ripeto nella mia partita privata che ho pubblicato un breve video ho fatto vedere i miei progressi dove era arrivato era arrivata la moleca corrotta quindi per tutti per tutto questo per tutti i messaggi che mi sono arrivati onestamente me ne sono arrivati un bel poio non me l'aspettavo riprenderò a fare le direct live però per questa volta faccio finta che quelle persone che stranamente mi odiano o mi insultano faccio in modo che non esistano quindi le lascio perdere automaticamente le bloccherò quindi continuerò a fare le mie direct live per quelle persone che hanno piacere di seguirmi io onestamente vi ringrazio non me l'aspettavo tutto questo interesse ma poi voglio dire una cosa ragazzi perché poi nei messaggi che io ho bloccato ieri che mi dicono che io porto pochi contenuti amico mio il problema è che io non è che porto pochi contenuti ho porto giochi quelli che piacciono a me e poi non posso portare giochi h24 in primis perché tengo famiglia il secondo è perché mi diverto a fare dei live per chi mi vuole seguire quindi io per esempio qua se andate a vedere ho pubblicato la storia di television 2 sto facendo a bordo volevo proporre e proporrò la guida di seguino perché è il gioco che mi è stato regalato da quelle persone che mi seguono e mi hanno fatto le donazioni ed è giusto che io pubblichi la guida ho già prenotato a borderlands 3 la versione deluxe perché io sono un partito della serie borderlands e più ciò altri due giochi che vi avevo già annunciato che era rage 2 e sto aspettando provavo di prendere dice a posto di dei scone che ho deciso di non prenderlo più quindi io di quei pochi contenuti che porto sono sempre giochi nuovi quindi questo è quello che posso fare ragazzi perché ripete bene con la monetizzazione su youtube ma non guadagno tutti questi soldi da potermi comprare giochi quindi bisogna anche capire anche questo io lo faccio sempre per mio piacere personale quindi ringrazio e ho già mandato i messaggi a tutte queste persone che mi hanno scritto quindi per voi ragazzi io ritornerò su youtube a rifare le live quindi stare tranquilli si riprende più tardi quindi con borderlands la remaster stasera inizieremo a fare totalmente 6 kg da capo quindi avete la mia promessa che rincomincerò a fare le live su youtube pur essendoci persone che stranamente mi attaccano o stranamente mi odiano non so il perché va bene uguale ok ragazzi io vi volevo comunicare questo volevo comunicare anche a loro ho già scritto a queste persone quindi ci rinpecchiamo nuovamente in diretta live io vi ringrazio ciao alla prossima ragazzi ciao